Perché abbattere una struttura all'interno della quale ci sono apparecchiature strategiche, costate milioni di euro quando si potrebbe procedere alla sua messa in sicurezza? Con una lettera inviata a Nicoletta Verì, anche i quattro consiglieri comunali della Lega Salvini-Abruzzo di Chieti, stesso partito dall'assessore regionale alla sanità, chiedono di bloccare il progetto che prevede l'abbattimento del corpo C dell'ospedale Santissima Annunziata, bocciando di fatto l'operato del direttore generale della AS Lanciano Vastocchieti, Thomas Schell. A rivolgere l'appello sono il capogruppo della Lega Salvini-Abruzzo ed ex assessore comunale Mario Colantonio, l'ex parlamentare già consigliere regionale Fabrizio Di Stefano, l'ex presidente del Consiglio Comunale Liberato Aceto, responsabile del Centro di Chirurgia dell'Obesità del Policlinico e la consigliera medico di base Emma Letta. Chiedono, come hanno già fatto anche il rettore dell'Università d'Annunzio, Sergio Caputi e il comitato, composto da sei primari, Felice Muciglie, Leonardo Mastropasqua, Francesco Cipollone, Franco Michelino Fiore, Patrizia Di Gregorio e Marcello Caputo, che venga fermata la demolizione. Capogruppo Colantonio, perché il corpo C del Santissima Annunziata non va demolito? Questa è un'indicazione che stanno dando oggi non solo a parti politiche o operatori tecnici, ma oggi si sono espressi su questa linea negativa della demolizione soprattutto coloro che operano gli ospedali quotidianamente. Personalmente sono stato dieci anni amministratore in giunta in questa città. Non ho conoscenza di nessun tipo di project che sia stato passato al vaglio anche di un parere informale da parte del Comune, cosa che invece sono state fatte per interventi che hanno interessato la cittadinanza, come la caserma Berardi e l'ospedale militare. Su questi interventi dell'ospedale civile noi non sappiamo nulla, quindi siamo fortemente preoccupati. Il corpo C contiene una serie di strutture tecnologiche necessarie per la funzionalità di altri corpi di fabbrica e oggi si vanno a perseguire solo demolizioni, per cui la preoccupazione del corpo ospedaliero è quella di perdere delle funzionalità all'interno anche di altri edifici che si servono degli impianti presenti nel corpo C e quindi conseguentemente delocalizzare dai chieti i servizi che oggi le eccellenze del nostro ospedale portano avanti con grande sacrificio ma con grande professionalità.